Tre tartarughe morte sono state rinvenute sulla costa di Molfetta. Prosegue in Puglia il fenomeno dello spiaggiamento di carcasse di tartarughe e delfini sulla costa Adriatica. Negli ultimi giorni sono stati rinvenuti ben quattro spiaggiamenti, si contano tre carcasse di tartarughe marine appartenenti alla specie Caretta Caretta e di un delfino appartenente alla specie Stenella. Le tartarughe rivenute sulla costa di Molfetta con lunghezza carapace di circa 70 cm sono state trovate in zona Cala San Giacomo, una giovinazzo di carapace di 68 cm ed infine l'ultima a Bari con carapace di lunghezza 80 cm nella zona San Girolamo. La lunghezza ha un importante valore dal punto di vista biologico e riproduttivo, ha spiegato Pasquale Salvemini, responsabile del centro tartarughe marine di Molfetta, in quanto oltre i 75 cm di lunghezza carapace questi animali raggiungono la maturità sessuale e sono in grado di riprodursi e dare continuità alla specie. Le tartarughe presentavano un evidente prolasso cloacale, sintomo di annegamento dovuto principalmente alla pesca strascico. Continueremo le nostre campagne di sensibilizzazione rivolte ai pescatori, aggiunge Salvemini, per spiegare loro come comportarsi in caso di pesca accidentale di tartarughe, in modo da poter dare a questi animali una concreta possibilità di sopravvivenza. Per quanto riguarda il delfino si tratta di un esemplare adulto di circa 215 cm, mummificato, rinvenuto sulla costa Molfettese in zona Torre Calderina. Gli interventi sono stati svolte oltre che dagli attivisti del centro tartarughe marine di Molfetta, anche dalla Capitaneria di Porto, dalla Polizia Municipale e dai medici veterinari delle ASL competenti.